Ciao a tutti ragazzi sono Victor, benvenuti in questo nuovo video. Nei video passati e molte persone mi hanno chiesto in diversi commenti di cominciare ad affrontare il discorso del boom sonico che è un discorso sempre molto affascinante perché ci vengono sempre mostrate queste immagini di aerei avvolti da questa nuvola di vapore di forma conica e sono sempre delle immagini insomma molto molto spettacolari e naturalmente i non addetti ai lavori si chiedono quale sia il fenomeno che provoca questo effetto visivo così affascinante. Beh in poche parole il boom sonico viene generato praticamente da delle onde di pressione, delle onde d'urto che vengono generate da un oggetto che si muove nell'aria a una velocità maggiore di quella del suono. In questo video andremo a vedere insieme che cosa è innanzitutto il suono e tutti i fenomeni che vengono associati al boom sonico. Prima di cominciare ragazzi vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e ovviamente di attivare anche la campanella delle notifiche. Bene per cominciare come ho detto parleremo del suono in sé per farla molto semplice potremmo vedere il suono come un'onda che si propaga all'interno dell'aria e dobbiamo immaginarcela proprio come un'onda tipo un'onda del mare quindi con punti più alti e con punti più bassi solo che a differenza delle onde marine in questo caso non si parla di altitudine vera e propria cioè non c'è un'onda che è più in alto o più in basso dell'altra ma questi picchi che vediamo sono semplicemente delle zone di pressione. Cosa vuol dire? Che nella propagazione del suono quindi nella propagazione di queste onde che producono il suono ci saranno dei punti a una pressione maggiore e dei punti a una pressione minore. Diventa fondamentale quindi come capite bene avere un mezzo di propagazione per queste onde che nel nostro caso specifico è l'aria stessa. Se fossimo ad esempio nello spazio non essendoci nessun tipo di molecola nessun tipo di materiale quindi nessun tipo di mezzo per trasmettere queste onde se anche ci parlassimo a un centimetro di distanza non potremmo sentire nulla di quello che ci stiamo dicendo. Infatti all'interno dello spazio vuoto l'unica cosa che si può propagare è la radiazione elettromagnetica e infatti ovviamente la radio e tutti i trasmettitori funzionano benissimo. Questo purtroppo non vale per le onde cosiddette di pressione. A che velocità si propagano queste onde all'interno dell'aria. La velocità del suono varia a seconda della temperatura dell'aria quindi la temperatura alla quale ci troviamo. Temperatura che è strettamente collegata a sua volta all'altitudine quindi viene da sé che se siamo a livello del mare o se siamo a 10.000 metri la velocità del suono varierà sensibilmente. Per comodità consideriamo la velocità del suono come una costante e generalmente a livello del mare a una temperatura standard di 15 gradi centigradi la velocità del suono è di circa 330 metri al secondo o 1200 chilometri orari. Bene ora che abbiamo visto un pochino le basi di quello che è il suono in generale trasferiamoci al mondo aeronautico. Immaginiamo adesso di avere un aereo che sta viaggiando ad una determinata velocità più o meno vicino al livello del mare così da trascurare diciamo gli effetti della temperatura. Questo aereo passando rilascerà delle onde sonore che si propagheranno in tutte le direzioni alla stessa velocità quindi in qualunque direzione il suono emesso da questo aereo viaggerà a 330 metri al secondo circa. Quindi passando questo velivolo creerà delle onde sia davanti che dietro di sé in maniera uniforme un po' come una nave quando passa appunto in mezzo all'oceano. Nel mondo aeronautico la velocità di un velivolo viene sempre identificata tramite un numero caratteristico che si chiama numero di mac che praticamente non è altro che il rapporto fra la velocità effettiva del velivolo e la velocità del suono. Quindi questo numero è un numero che va da 0 a ipoteticamente infinito ovviamente nella realtà nel mondo aeronautico come lo conosciamo noi arriva fino a circa 3 e mezzo fatta eccezione per alcuni modelli sperimentali. Quindi per capirci bene se stiamo viaggiando a mac 2 stiamo viaggiando al doppio della velocità del suono. Se stiamo viaggiando a mac 0.8 stiamo viaggiando a 0,8 volte la velocità del suono. Dal momento che stiamo viaggiando sotto mac 1 quindi al di sotto della velocità del suono le onde che l'aereo emette passando che si muovono invece alla velocità del suono si propagheranno più velocemente allontanandosi piano piano dall'aereo stesso. Infatti se ci fate caso molto spesso sentiamo gli aerei il rumore degli aerei molto prima di vederli passare. Questo perché il suddetto aereo sta viaggiando molto probabilmente a una velocità inferiore rispetto a quella del suono. Ma cosa succederebbe se stessimo viaggiando invece ad una velocità maggiore di quella del suono? Beh in questo caso le onde verrebbero raggiunte dal nostro aereo e non riuscirebbero ad allontanarsi in tempo facendo sì che il passaggio dell'aereo stesso le raggruppi e le comprima tutte insieme a formare quello che viene chiamato tipicamente cono di mac. Dobbiamo immaginarci questo cono di mac come la propagazione di una singola onda che è formata dalla somma di tante onde più piccole e quindi come un'onda ad altissima energia. Proprio per questo motivo quando un aereo passa sopra le nostre teste a una velocità maggiore di quella del suono quando l'onda d'urto ci colpirà sentiremo un rumore improvviso estremamente forte molto simile a quello di un tuono o di un'esplosione. Non solo questo ma proprio per come è strutturato e formato il cono di mac il boom sonico non si sentirà in tutte le direzioni ma solamente in una proiezione sul terreno a parabola che dipende strettamente dalla velocità del velivolo e dalla zona sopra cui sta passando. Il boom sonico quindi è dovuto a un fortissimo incremento di pressione che si verifica davanti al muso dell'aereo quando si viaggia a una velocità molto maggiore rispetto a quella del suono. E la stessa cosa si verifica una volta che l'aereo è passato. Infatti se sul muso dell'aereo al suo passaggio vi è stato un incremento di pressione una volta che l'aereo è passato vi sarà un forte decremento fino ad arrivare alla pressione atmosferica originale alla sua coda e questo forte decremento genererà un secondo boom sonico. Infatti il passaggio di velivoli a velocità supersoniche generano non un boom sonico ma due anche se questi salti di pressione sono talmente rapidi che l'orecchio umano ne percepisce solo uno. Queste onde di pressione sono sempre state un problema per chi deve progettare velivoli supersonici appunto perché davanti all'aereo abbiamo determinate condizioni di temperatura, pressione e quant'altro. Una volta invece passata l'onda d'urto abbiamo un fortissimo incremento di pressione e anche un incremento di temperatura. Quindi da un punto di vista aerodinamico fare l'analisi di un velivolo di questo tipo è molto più complesso che farne una di un velivolo diciamo subsonico. Proprio per questo motivo in alcuni design di aerei supersonici soprattutto quelli militari o anche l'ormai in disuso Concorde vengono posizionati degli elementi molto appuntiti sulle ali e sul muso dell'aereo in maniera tale che la formazione di queste onde d'urto avvenga il più lontano possibile dalle strutture dell'aereo stesso per evitare dei surriscaldamenti o degli involuti sbalzi di pressione. Un'altra funzione che questi elementi aerodinamici esercitano è quella di rendere le onde d'urto leggermente più deboli. Ma allora che cos'è questa nuvola di condensa che avvolge l'aereo quando supera il muro del suono? È banalmente appunto una nuvola di vapore che raggiunge la condensazione a causa del fatto che una volta passata l'onda d'urto vi è un brusco e significativo aumento di pressione che quindi porta l'aria a condensare. Quindi in pratica osservando la geometria di questa nuvola che avvolge l'aereo potremo capire dove si sta formando la nostra onda d'urto. Bene ragazzi questo era quanto c'è da dire sul boom sonico. È un concetto che coinvolge tanti concetti di aerodinamica e fluidodinamica che sono anche molto molto complessi quindi non mi sono stato a dilungare troppo all'interno di dettagli tecnici. Come vedete anche un fenomeno così banale in realtà nasconde un significato molto molto complesso anche a livello scientifico. Spero comunque di essere stato chiaro e che abbiate capito tutto quello che vi ho spiegato in questo video. Se avete altre domande e volete saperne di più o avete altri argomenti da suggerirmi scrivetemelo pure nei commenti. Non dimenticate di lasciare un bel like se il video vi è piaciuto. Io sono Victor passo e chiudo e noi ci vediamo a un prossimo video.